le percussioni sono quelle del signor Cristian Fussi la chitarra ritmica, signore guardate un signor playboy, lo consiglio a tutte del signore signore e signori è da lui, Carlo Calderano all'inizio dello show avevo un altro amico ma per impegni se ne è andato allora in un posto non si può dire non diciamo che professione è padre e don't playboy al basso salutiamo e ringraziamo alla mia destra che è sicuramente la vostra sinistra un uomo che è nella nostra leggenda nei nostri cuori il maestro Pimbo Temporeale direttamente dal teatro dei Muppets il nostro biondino è lui come vedete vai 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 get, 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 get andate in questo momento Gucchia the drum, the feel, the feel, the feel, the feel, the drum, the soul alla batteria Adriano Boninelli alle mancie un uomo che è magico un uomo che è unico un uomo spettacolare tutto per noi tutto per voi Claudio Boninelli detto il nome è colui che ci mette la faccia colui che ci ha messo il cuore colui che ci ha messo le note della sua chitarra il signor Cristian Cicci Spagnoli un applauso a Diego Spagnoli un applauso a Brazza un applauso a Brazza un applauso a Brazzolini come vedete perché ne c'è si si di il il a Sera che vuoi! Grazie a tutti il minuto! Grazie! Ciao! Spero di i migliori presto! Grazie a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti!